Allora, mi hanno detto che io devo aspettare, ma aspettare quanto? È la mia domanda. Perché io ho aspettato, però non ha funzionato. No, era buggato! Ecco perché! Dai, ma era buggato! Non è che dovevo aspettare, era solo buggato il gioco del cazzo, foglio di puttana. Un umano? Ha una rara locazione, deve essere il mio giorno fortunato. Io... Aspetta se... Dovei portarlo a casa? Non ho capito un cazzo. The look severely injured. Sembra davvero che abbia bisogno di aiuto. Forse qualche potere magico potrebbe farlo. Meglio. Ora, portiamo... Tasciniamolo a casa. Lui morirà se non lo aiuto. E' davvero buggato. Se ora mi dissi che il circolo capitolo arriva, io giù ti spacco la faccia. No, il circolo capitolo è proprio buggato. Ciao, bravi. Pensavo di spegnere, giuro. Infatti, se vedete, avevo proprio... Mi dispiace per quelli che hanno pensato che questo forse sia un continuo. Ciao, scoppione.